Impresa del Tolentino che obbliga la Samba alla prima spartizione della posta casalinga dell'attuale campionato con una gara attenta e gregliarda per tutti i 90 minuti. Primo tempo con il Tolentino indenne e con la Samba decisamente poco contenta per il problema muscolare al polpaccio che costringe il capitano Tozzi Borsoi a chiedere il cambio appena al diciannovesimo. E per l'espulsione per protesta del proprio trainer Andrea Mosconi allontanato al ventiduesimo, Cremisi schierati con il 4-2-3-1 che va parecchio di moda contro il 4-3-3 dei Rosso Blu in tenuta bianca. Il pallino del gioco è ovviamente dei Riveraschi che vogliono continuare nell'accelerazione continua impressa al girone unico di eccellenza in cui i Rosso Blu sembrano trovarsi quasi per caso. All'ottavo Traini gira di destro verso Carnevali che è attento, al sedicesimo chiara occasione da gol per i padroni di casa con Padovani, finora 11 centri per lui che però non inganna Carnevali che di piede si rifugia in angolo. Al trentunesimo Cinotti visticcia nel controllo in aria con il pallone e l'opportunità per gli ospiti sfuma. Al trentasettesimo il Tolentino si mangia una limpida occasione per mettere la freccia. Il guizzante Frinconi dalla destra suggerisce in aria. Cinotti stacca ma non riesce nell'incornata a tenere bassa la palla che termina seppur di poco sopra la traversa. Due minuti dopo Piccioni a centrocampo se ne va come un car armato ma di fronte a Carnevali non ce la fa ad infilarlo. L'estremo Cremisi si esibisce ancora di piede alla Dino Zoff e devia il pallone del possibile 1-0. Al sesto della ripresa Cinotti calcia al lato dopo una bella proiezione offensiva. Al quattordicesimo Frinconi sorvola la traversa. Al quarto d'ora di gioco Padovani spara altissimo. Al diciassettesimo invece l'episodio che potrebbe decidere il confronto per i palloni di casa. Carnevali ferma fuori aria con le mani l'arrembante Piccioni. Espulsione inevitabile, successivo calcio di punizione con doppia battuta di Galli e parata finale sulla linea dell'esordiente Brandi. scortato da Ciotti. Al ventiseiesimo colpo di testa dell'ex Galli che però non inquadra lo specchio. Al trentasettesimo nell'assalto a Fortapache mancato Tepin dei padroni di casa. Al quarantaquattresimo sinistro di Fedeli fuori bersaglio. Finisce così con l'applauso dei coraggiosi tifosi Cremisi ai propri Beniamini che si riscattano dopo la sconfitta interna con il Monte Giorgio. Siamo con il mister Aldo Clementi che aveva chiesto alla sua squadra una prova d'orgoglio. Soprattutto aveva detto di non venire al riviere delle palme a recitare il ruolo della vittima sacrificale. Così è stato, mister? Sì, beh, era normale che fosse così. Non giocare una partita sapendo già che il risultato è scontato. Non credo che sia conveniente per nessuno. Siamo molti qua per cercare di fare la partita. Stavamo molto bene in campo. Chiaro che ogni volta che la Samba attacca è pericolosa, ma questo è normale che sia così, perché una spara è molto forte. Per ora stavamo molto bene in campo. Stavamo giocando la nostra partita. All'inizio del secondo tempo la sensazione era che c'eravamo. Sicuramente giocavamo per cercare di portare a casa il massimo risultato. Mister Andrea Mosconi, la Samba è più arrabbiato per l'espulsione apparsa in effetti affrettata piuttosto che per il risultato di parità. No, noi non siamo arrabbiati. Noi ci dispiace perché voliamo vincere, però secondo me quando i calciatori escono da campo con la maglia sudata fanno il 100% va bene tutto. Noi siamo la Samba e l'alibi non esistono. Accettiamo il verdetto del campo, il verdetto ha detto che abbiamo pareggiato. Onore e merito agli avversari che hanno fatto un grande punto contro una grande Samba.